L'ospite di questa mattina andiamo in comune, andiamo in consiglio comunale e lo facciamo insieme a Federico Bottelli. Buongiorno consigliere Bottelli. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora grazie a te Federico di essere qui, ci davo del tuo, insomma sei uno abitué di questi studi, quindi insomma in tutte le varie salse di questi anni qui tra Milano News, Municipio X, Good Morning Milano, Video Audio, insomma sei passato in tutto. Le ho viste tutte, anche perché insomma nonostante la tua giovane età ormai sei un politico navigato. Non esageriamo, però sì, insomma tra il consiglio di municipio prima e il consiglio comunale oggi, sono otto anni da amministratore locale. Per un ragazzo di 16 anni insomma, no, ne ho 29. Sto per superare la soglia psicologica dei 30, sono molto preoccupato. Tranquillo che poi c'è quella di 40 dopo. Quindi è ancora peggio, mi dicono così che qua ai 50 ancora, quindi insomma c'è sempre una soglia da superare. No, questo per dire cosa, comunque sei uno che appunto già a vent'anni già eri in consiglio municipale, in consiglio di municipio, e sei uno che insomma la cosa pubblica, la res pubblica, l'hai sempre seguita con tanto passione. Sì, e devo dire che in questi anni ho imparato anche tanto, perché gestire la cosa pubblica non è semplice, c'è una macchina molto complessa, il Comune Milano ha 12.000 dipendenti, quindi è una cosa quando si muove molto importante. Tra cui te, vengono contati anche i consiglieri comunali o no in questi 12.000? Sì, sì, assolutamente, siamo lavoratori, siamo assimilati dipendenti. Assimilati dipendenti, si dice, ok, perfetto. Ma insomma ne hai viste di cotte e di crude, verrebbe da dire, ne hai imparato tanto, però questa cosa è fondamentale. Credi che serva anche proprio per la tua formazione come essere umano, in un certo senso? Senza alcun dubbio. Fare l'amministratore locale, occuparsi della cosa pubblica nell'interesse di tutti, è un'esperienza formativa in tutti i sensi, competenze, ma soprattutto anche lato proprio umano. Io poi in questi anni ho sempre cercato di mantenere il contatto col territorio, che poi è fondamentale, perché dobbiamo dare risposte a chi poi vive nei quartieri e nella città. E quindi essendo molto legato al municipio 7, a questo territorio, ho sempre cercato di tornare, incontrare, girare la città, conoscere nuove realtà, che è poi quello che ti caratterizza. Una città che appunto, insomma, già al municipio 7 è praticamente un comune lombardo, più o meno. 180.000 abitanti. Una città che insomma non deve essere facile, non bastano otto anni forse per scoprirla tutta e per conoscerla. No, assolutamente. Infatti ogni consigliere comunale conosce un pezzettino, ovviamente, e ognuno si specializza, come è giusto che sia, su un tema a cui tiene molto. Io faccio la fortuna di fare il presidente della commissione casa in un momento in cui il tema della casa è centrale. Sei sicuro che sia una fortuna questa? Non so. Ma ho avuto la fortuna di sceglierlo questo tema, quindi comunque è colpa mia, ecco. Ok, non puoi dare la colpa a nessun altro. Esatto. No, io penso che sicuramente il tema della casa è centrale oggi, da tempo tutti denunciano l'aumento insostenibile degli affitti ed è così, però penso che sia una bella sfida cercare di dare delle risposte a un tema così complesso che magari non è neanche un tema a cui un comune può dare da solo delle risposte. E' difficilmente ricomprensibile come tema, perché è ovvio che noi vediamo il finale, il fatto che non posso permettermi di comprare casa, non posso permettermi di andare in affitto. Punto. Colpa, piove, governo ladro. Cioè questo è il concetto, no? Esatto. E invece forse è un po' più complessa. E' decisamente molto più complessa anche perché le esigenze poi sono più articulate, no? C'è l'esigenza di dare una risposta alla fragilità estrema attraverso le case pubbliche, c'è l'esigenza di dare una risposta ai lavoratori, adesso col piano casa stiamo cercando di fare questo. C'è un'esigenza di dare una risposta di casa non in generale a chi ne ha bisogno ma in base alle proprie esigenze, come dicono tutti gli studi, uno deve pagare un affitto che sta intorno al 30% del proprio reddito, indipendentemente dal proprio reddito. Quindi diciamo benvengano i ferragni che si possono permettere quella casa là, non so se possono più permettersi adesso, però bisogna anche fare in modo che invece il buon consigliere Bottelli invece abbiano una casa parametrata sullo stipendio di un consiglio comunale che sappiamo non essere miliardario. Esattamente, ovviamente partendo da quelli che hanno meno, no? Quindi si parte con la risposta pubblica, poi c'è una risposta calmerata, gli affitti fuori dal libero mercato e poi c'è il libero mercato. E' ancora più complesso intervenire. Il problema è che qui è libera giungla in questo momento sembra, no? Il comune può fare qualcosa? Beh, un pezzettino importante lo può fare. Sicuramente da solo non è risolutivo e il dato politico è che in questo momento in cui il comune sta comunque cercando di dare una risposta col piano straordinario per la casa dove mettiamo a sistema 20 aree, andiamo a rigenerare delle aree che oggi sono cementificate costruendo alloggi calmierati e il piano prevede la costruzione di 10.000 alloggi in 10 anni, quindi una risposta molto importante. Ecco, in questa ricerca di dare una risposta, la totale assenza di regione e governo è evidente. Su come costruire queste 10.000 case, su come gestirle, poi adesso ne parliamo di nuovo, perché poi il concetto è quello, ok i numeri, ok dare gli spazi, ma bisogna fare in modo che poi quegli spazi siano veramente calmierati, siano veramente disponibili per quelle persone che avranno a disposizione quel tipo e quella tipologia appunto di abitazione. E so che su questo, poi ne parleremo ad esempio sugli studentati, hai fatto una bella scoperta diciamo, che hai portato poi in consiglio e si è discusso tanto, tanto, tanto. Dopo Charlie Puth, dopo Light Switch, torniamo qui con Federico Bottelli. Light Switch, Charlie Puth alle 8.21, c'è quel TH finale che beh, devo per forza leggerlo così, cioè mi istica a leggerlo Charlie Puth così. Comunque Federico Bottelli senza l'H qui con noi dal Consiglio Comunale di Milano per parlare del piano casa, ma prima appunto dicevo, al piano casa si pensa di fare 10.000 appartamenti, poi calmierato, ci saranno delle convenzioni e tutto, convenzioni che si usano spesso anche per altre situazioni, come ad esempio gli studentati, ma poi il buon Bottelli scopre qualcosa. Eh, si scopre che queste convenzioni alla fine non prevedevano dei posti letto così tanto calmierati. Un esempio che abbiamo portato un po' all'attenzione pubblica è quella dello studentato al villaggio olimpico, quindi nello scalo di Porta Romana ci sono le gru che stanno costruendo il nuovo villaggio olimpico fondamentale per la buona riuscita delle Olimpiadi. Dopo le Olimpiadi, diciamo, quell'immobile diventerà il più grande studentato in Italia. 1.700 posti letto, una cosa abbastanza importante. È una piccola città, sì, è proprio così. E la convenzione prevedeva l'8% di posti calmierati e altri fino ad arrivare a 1.000 euro al mese a posto letto. A posto letto? A posto letto. Non un trilocale, un bilocale, no, a posto letto. Una doppia a 1.000 euro. Adesso non me ne vogliono quelli, ma secondo me manco se fai la NAB o la Yulm te lo puoi permettere. Adesso chiediamo alla nostra regista che fa Yulm. Poi glielo chiediamo. Però in realtà è impressionante, no? È un prezzo esageratissimo. Però evidentemente questi sono del mestiere, nel senso non fanno prezzi fuori dal mondo. Quindi evidentemente rispetto alle informazioni che hanno quei posti li riempiono. Fortunatamente questo è un progetto partecipato anche dalle istituzioni pubbliche. E siamo arrivati noi, abbiamo detto scusate ma forse 1.000 euro a posto letto è un po' fuori dal mondo. Siamo riusciti a intervenire, abbiamo portato i prezzi calmierati che comunque stanno intorno ai 450-435 per l'esattezza euro a posto letto. Ma è decisamente più accettabile dall'8 al 30% e comunque abbiamo... Ah cavolo, avete anche alzato notevolmente al percentuale. Notevolmente e in generale la media dei prezzi si è abbassata di molto. Quindi con un grande intervento, votando un ordine del giorno in Consiglio Comunale, facendo anche un bel dibattito sostenuto. Ma alla fine l'obiettivo l'abbiamo portato a casa. E questo è importante perché bisogna tenere gli occhi aperti anche sulle cose che fate voi, in un certo senso. Bisogna stare attenti perché insomma è un attimo poi magari che qualche cavillo, qualche... Assolutamente, le convenzioni una volta... Qualche scorciatoio magari si può trovare. Sì, diciamo che io ho capito questo in otto anni, che l'interesse pubblico non si autotutela. C'è sempre bisogno di qualcuno che stia lì a difendere tutti i giorni l'interesse pubblico. E quindi l'attenzione dei consiglieri comunali che mettono i riflettori su un tema è fondamentale. Consiglieri comunali come i consiglieri di municipio, le giunte di municipio. Ecco, chi è lì a mettere i riflettori su un tema delicato, caldo, che ha la necessità di essere attenzionato, per me è importante perché poi si risolvono problemini importanti. E' interessante anche che ritorna, almeno questa volta, centrale il ruolo del consiglio comunale. Dai, ce l'avete fatta, insomma ogni tanto siete un po' bistrattati, quindi io sono molto solidale con il vostro lavoro quotidiano. Ti ringrazio, sì, ne abbiamo bisogno ogni tanto. E allora andiamo con un po' di musica, poi due consigli per gli acquisti, poi torniamo qua insieme a Federico Votelli perché affrontiamo per bene allora il piano casa. Che cos'è, come funziona, quando inizierà, come andrà. Insomma, Federico sa tutto, quindi potete anche farci tutte le domande che volete al 331-78-535-555. Megan Treino con Criminals, 8 e 33 minuti, Cristian Radio, Good Morning Milano, 331-78-535-555. Il nostro numero di Whatsapp, qui con il consigliere comunale Federico Bottelli per parlare del piano casa. Ecco, allora, il piano casa è uno dei quei temi che fa saltare sulla sedia chiunque. E quindi tu che invece lo conosci molto bene, Federico raccontacelo perché cosa prevede questo piano casa e cos'è questo piano casa? Intanto si chiama Piano Straordinario per la Casa. Ok. Il titolo è importante. DOCG è questa qui. Esatto. Ma sostanzialmente partiamo da una considerazione. Chi oggi guadagna, lavoratrici, lavoratori, 1000-1500, ma arrivo anche a dire 2000 euro al mese, da questa città fugge, se ne va, non è più in grado di poter rimanere a vivere in questa città. Perché? Perché il costo della vita è sicuramente molto alto e il costo della casa è impattante sul reddito, è determinante. E quindi una strategia per dare un po' di respiro è quella di offrire case accessibili a prezzi davvero bassi alle lavoratrici e lavoratori. Questo è insomma il piano generale. Non stiamo parlando di povertà assoluta, di persone indigenti, parliamo di quelli che si ritrovano ad avere un lavoro, un lavoro pagato più o meno bene, ma insomma, però pagato, e che comunque nonostante questo non riescono a gestire quello che è appunto la necessità di un'abitazione. Esattamente. Poi ovviamente il piano dà una risposta anche alle fragilità estreme, c'è un pezzo che tocca le case di proprietà del comune, le tante case sfitte che dobbiamo mettere a posto. Però, diciamo, il cuore del piano sardinario per la casa cerca di dare una risposta al ceto medio, il ceto medio è impoverito, alle lavoratrici, ai lavoratori. E come? Mettendo a disposizione una ventina di aree di proprietà del comune di Milano, prevalente o la stragrande maggioranza sono aree degradate, già pavimentate, infrastrutturate, quindi cerchiamo di stare molto attenti sul consumo di suolo e sul tema ambientale. Un paio di esempi, giusto, per capire un paio di aree che ti vengono in mente così dal volo? Beh, l'ex Palasciarp, l'area dell'ex Palasciarp, c'è l'area di via San Romanello a Quinto Romano, c'è un'area molto grande a Porto di Mare, c'è un ex studentato mezzo costruito mezzo no in via De Moste, Municipio 2, quindi c'è anche un tema di recupero dei vuoti urbani, che è un tema molto importante, tante costruzioni lasciate un po' a metà, quindi non c'è consumo di suolo perché sono già costruzioni che vanno recuperate per dare risposta ai lavoratori. Ecco, quando l'ex Palasciarp così, sì, lì già c'è il cemento, quindi sarebbe bello avere un parco, sì, bellissimo, però tra che c'è la montagnetta davanti e poi vi assicuro che io porto sempre questo esempio, io ho visto la costruzione della Biblioteca degli Alberi, che è un bellissimo parco e tutto, ma vi assicuro che non è che costruire un parco sia meno impattante a volte, perché lì dove non c'era un parco ed è stato costruito è stato molto impattante comunque, poi adesso bellissimo nel senso, quindi, ecco, la cosa interessante però di questo piano appunto è che dà risposte alle varie necessità di questa città, non solo l'emergenza, ma anche appunto una riqualificazione e rigenerazione, come si può fare una riqualificazione e rigenerazione però che abbia un senso? Stando molto attenti sul piano della fattibilità, proprio piano economico, l'obiettivo unico direi, il caposaldo di questo piano è offrire case a 80 euro metro quadro anno, che per i non addetti ai lavori vuol dire, diciamo, 400 euro per un 60 metri, 400 euro al mese per 60 metri. 400 euro al mese adesso credo ci prendi un box, qualcosa del genere, ok. E come è possibile farlo? Nel senso, chi ci mette i soldi e chi ci va a perdere i soldi, mi farebbe da dire a questo punto? No, come funziona? Beh, diciamo che per la prima volta dopo 25 anni il Comune di Milano costruisce nuove case, che non saranno, diciamo, tecnicamente proprio al 100% i proprietari del Comune di Milano, come le case popolari, ma è un progetto a forte presenza e cabina di regia pubblica. Forte vocazione pubblica, diciamo. Esatto, esatto, forte vocazione pubblica e quindi come si arriva a questo prezzo finale molto accessibile? Facendone male, costruendone male, no? Assolutamente no, mettendo a disposizione delle aree gratuitamente, abbattendo quei costi che sono in così costruzione gli oneri di urbanizzazione, sostanzialmente le tasse che gli operatori... Così tanto nella costruzione di una... Beh, abbastanza, sì, sì, magari incidono di un 15-20%, insomma, abbastanza considerevole e soprattutto il Comune di Milano si riserva la possibilità di andare, diciamo, a dare anche risorse economiche. Quindi l'obiettivo, l'unico obiettivo è offrire case 10.000 alloggi in 10 anni e a 80 euro metro quadro anno per la prima volta dopo 25 anni di svendita di case pubbliche. Mi viene in mente bottelli come Fanfani, sembra quasi un piano Fanfani. Beh, guarda, il piano Fanfani prevedeva 21... 14.000 alloggi costruiti in 20 anni, qui siamo 10.000 in 10 anni. Bottelli miglio di Fanfani, questo lo sta dicendo. Non so se avete visto, ha flexato in questo momento facendo questa cosa. Comunque... No, però ci tengo a dirlo, è tutto, diciamo, il merito, non tutto, però, insomma, una buona parte del merito. C'è il nuovo assessore alla casa, l'assessore Guido Bardelli, che è una persona estremamente competente e fin da subito ha avuto questo obiettivo e mi sembra che per ora siamo molto positivi, però non è che siamo positivi e stop e va bene così. Ecco, perché siamo vicino una domanda successiva. Bene, bravi, avete scritto tutto sulla carta, bravissimi. Ma cosa succede però? Cioè, quando è che cominciamo a vedere qualcosa? Questo è importantissimo. Insomma, c'è l'impedito dopo domani e quindi non possiamo neanche mettere la città sotto sopra. Come è che funziona adesso? Questo piano enorme, ovviamente, si sviluppa in diverse fasi. C'è una prima fase che può partire subito e che partirà subito, che è la messa a disposizione delle prime quattro aree. Sono quattro aree che non hanno necessità di essere bonificate, sono quattro aree già pavimentate, insomma, sono già edificabili da PGT, quindi non le dobbiamo neanche modificare nel piano di servizi. E quindi le prime quattro aree andranno così velocemente. In un paio di mesi si farà un avviso pubblico, parteciperanno quei mondi che si possono permettere di avere una redditività così bassa. Quindi la domanda di prima di chi ci perde è perché qui non stiamo parlando di operatori privati, di speculatori. Noi stiamo chiedendo di collaborare con il Comune di Milano a quei soggetti che sono del mondo mutualistico, le cooperative edificatrici. C'è una selezione all'ingresso, diciamo? C'è una selezione perché l'obiettivo è fare affitto permanente. Gli speculatori non faranno mai affitto permanente. Costruiscono e poi vendono al massimo possibile nei tempi che ritengono. Invece l'obiettivo è fare affitti calmerati e farli permanenti. Quindi anche un ritorno appunto della cooperazione edilizia. È una commissione, appunto una nuova sinergia tra il pubblico, tra il Comune e le cooperative che insomma a Milano sappiamo che hanno fatto tanto. Hanno fatto la storia di questa città dal punto di vista edilizio. Le cooperative sono dei partner importantissimi e offrono già oggi dei modelli esistenti. Prendo un esempio, posso? Faccio anche nomi e cognomi perché ci tengo. La cooperativa Abitare, Abitare e Società Cooperativa, ha 2.700 alloggi a Milano. 2.700, non pochi. Eh no, non pochi. Non pochi. Offre da una risposta al tema casa a più di 6.500 persone. 6.500. E ha questi affitti qui. 80, 90 euro metro quadro anno. Quindi è un modello basato su queste cifre che già oggi esiste e che ci dimostra che si può fare. E se si può fare appunto speriamo quindi di vederne i risultati. Hai pronominato prima il PGT, ne parliamo allora dopo la prossima canzone perché appunto poi c'è quello. Quattro aree, ok. Ma poi c'è il PGT da andare a toccare, da andare a capire. Quindi dite sempre che volete cimentificazione zero, poi ogni volta PGT si vedono metri cubi in più, metri cubi in più, metri in più. Gli ambientalisti si incazzano e quelli che costruiscono si incazzano anche loro. Quindi cioè, fate arrabbiare tutti ogni volta. Quindi poi ci spieghi bene come funziona questo PGT, no? Cosa è, cosa prevede e cosa prevederà? Perché adesso appunto siete lì per riscriverlo, no? Beh, siamo lì lì. Ok, Gianni Morandi, apri tutte le porte e poi torniamo qui con Federico Bottelli. Gianni Morandi, apri tutte le porte. Invece chissà quante porte, sono 10.000 gli alloggi che dovete fare. Pensa, 10.000 porte dovete aprire, Federico. Aprirle tutte una a una. Aprirle tutta una a una, ci vogliono altri dieci anni. Ma per fare questo piano a casa, fammi capire se è così collegato. Bisogna ovviamente anche rivedere un attimino il PGT. Oppure non è così collegato? Ma fortunatamente le due cose possono andare molto in parallelo. Cioè, il piano straordinario per la casa sta in piedi anche senza modifiche al PGT, ma per dare una risposta all'emergenza abitativa, all'emergenza a casa in questa città, è fondamentale cambiare le regole del gioco. E quindi il PGT, che è quel grossissimo documento che gestisce, delinea le regole del governo del territorio, cosa dice attualmente o meglio? Cosa dovrà dire, secondo voi? E perché dovete riscriverlo? Perché ormai scade, no? Come funziona? Sì, dopo un tot di anni c'è una revisione. Sì, esatto. E lo dobbiamo riscrivere perché le esigenze cambiano nel tempo e è fondamentale dare delle risposte. Quindi, sul tema a casa, gli strumenti che ci servono per dire che cosa si può costruire, quanto di convenzionato, quanto di calmerato, quanto in edilizia libera, seppur il PGT oggi esistente ha delle regole abbastanza innovative rispetto anche al panorama nazionale, pensiamo che sia superato e di dare anche una stretta, diciamo, ad alcune norme, ad alcune regole in favore di un'edilizia più calmerata, accessibile. E cosa dicono i derattori? Cos'è che non funziona questo PGT? In realtà non è un tema di cosa funziona, è di quanto possiamo chiedere e spingerci nel costruire alloggi accessibili. Oggi le regole dicono che per tutti gli interventi superiori ai 10.000 metri quadri il 40% è obbligatorio destinarlo a edilizia residenziale sociale, ad housing sociale, che se prima stavamo parlando di 80 euro metro quadro all'anno per il piano straordinario, qui stiamo tra i 110, i 130, 140 euro metro quadro all'anno. Libero mercato sta a 240. Ok, giusto per dare un'idea di scala. Esatto, così abbiamo tutti gli stessi parametri. Quindi sicuramente è un prezzo calmerato rispetto al mercato, ma... Già un po' spinto. Esatto, un po' più sostenuto. Ecco, io penso che non sia giusto dire sopra i 10.000 metri quadri. Io penso che ogni metro quadro di questa città di nuove case, di nuovo costruito, debba comunque dare una risposta, che sia una piccola percentuale a una casa accessibile. Mi arrabbio sempre quando anche i giornali scrivono 8.000 metri quadri, 10.000 metri quadri, dammi un'idea, cioè cosa vuol dire più o meno, cioè un palazzo di, cioè non lo so... Ma diciamo che un condominio medio sta sotto i 10.000 metri quadri, un condominio grossino sta sopra i 10.000 metri quadri. La maggior parte delle nostre case in cui viviamo, cioè non è un appartamento, è un condominio in cui siamo molto realmente sotto i 10.000 metri quadri. Verosimilmente sì, verosimilmente sì. Quindi insomma è veramente una piccola parte allora di quello che poi viene costruito. Sicuramente, questo è anche uno degli elementi su cui abbiamo basato questa considerazione, cioè il numero di progetti che sta sopra i 10.000 metri quadri è un certo numero, quelli che si concentrano tra i 5.000 e i 10.000 ad esempio sono tre volte tanto, sono infinitamente di più e io penso che se uno costruisce un nuovo palazzo e vuole fare edilizia libera a 10.000 euro al metro, come dire, il mercato gli può dare o meno delle risposte, questi sono dove farsi lui i conti, ma in quei 5.000 metri quadri di 10.000 euro al metro ci devono essere almeno il 50% di 3.000 euro al metro, 3.500 euro al metro che è l'edilizia convenzionale. Chiaro, quali sono gli altri punti del PGT che secondo te, perché parla qui immagino che chiunque poi porterà le sue, perché poi se tu vuoi andare in una direzione ci sarà qualcun altro che vuole andare in una direzione ovviamente opposta, quindi poi bisognerà trovare il punto di contatto, ma se dovresti iscriverlo tu proprio, cioè tu partirai questa è la prima proposta, poi che altre proposte ci metteresti dentro? Ma diciamo che fortunatamente la modifica del PGT è un percorso molto lungo, dura più di un anno, ci saranno diversi confronti, siamo solo alla primissima fase molto iniziale. Chi è che lo si mette proprio lì al tavolo, tutti quanti? Beh, diciamo che la prima proposta la presenta l'assessore alla rigenerazione urbana, dopodiché c'è una fase in consiglio comunale di confronto, ci sarà un piano quindi approvato che verrà poi sottoposto alle osservazioni di tutti e tutti i cittadini potranno dire la loro sul piano di governo del territorio, questo è un metodo di partecipazione secondo me molto importante, molto bello, forse unico caso su una delibera così importante. Sai già più o meno quando sarà quel momento, così poi tornerai qua magari a raccontarcelo? Ma io spero che per i primi mesi dell'anno prossimo la prima fase sia conclusa in consiglio comunale, quindi poi ci sarà un annetto dove si potranno presentare delle osservazioni a parte gli operatori, i cittadini, le realtà e i comitati e poi ci sarà una fase finale in consiglio comunale di adozione. Il PGT rimane solo sulla grande area oppure va anche magari nello specifico di alcune zone? Il PGT ha uno zoom molto generale perché definisce alcuni parametri ma poi molto specifico, dice qualsiasi, diciamo ogni metro quadro di questa città avrà una sua funzione, quindi edificabile o meno, funziona a servizi o meno, quindi arriva molto nello specifico e io oltre a fare il presidente della Commissione Casa faccio anche il presidente della Commissione dei Lavori Pubblici e mi interessa molto perché è uno strumento che ti serve anche per cambiare un po' il volto della città. Io penso che Milano sia cambiata molto in questi anni, soprattutto post-Covid, anche grazie le piazze tattiche, che sono gli strumenti urbanistici fondamentali per poter sperimentare. Abbiamo costruito più di 50 piazze tattiche aperte, quindi abbiamo restituito 50 piazze alla città e penso che sia giunto il momento di renderle strutturali e quindi penso che... Basta tattica ma struttura a questo punto. Eh sì, la tattica ci è servita per studiare, capire cosa andava giustato, sperimentare e adesso vanno rese in struttura e il PGT ci può essere utile in questo. Perfetto, Federico, grazie di essere qui con noi questa mattina, abbiamo fatto un bel giro sopra la città. È un giro alto ma bello, grazie a voi per l'invito. È importante, seguiremo il piano a casa, il piano straordinario per la casa e quindi Federico poi tornerà a raccontarci step by step come andranno i vari passaggi, l'evoluzione di questo grande piano che insomma 10.000 all'oggi in 10 anni, lo ripeto per farvelo entrare bene in testa perché è davvero davvero qualcosa di molto 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 interessante. Grazie mille Federico Mottelli, andiamo ancora con una canzone e poi torniamo qui per i saluti finali.